Nel Museo delle Miniere per il primo reading di poesia all'insegna della poesia dialettale e lingua. Abbiamo voluto quest'anno dedicare una serata alla poesia. Quando, mi sembra, nel mese di marzo ci siamo riuniti tutte le associazioni per decidere le serate estive, il programma estivo, mi hanno proposto di dedicare una serata, di organizzare una serata dedicata appunto alla poesia. E io subito mi sono messa all'opera, diciamo, perché è una cosa che sento da molto tempo e ultimamente pure sto vivendo con delle esperienze particolari, partecipando a concorsi. Così ho deciso di... un'idea che mi è venuta è stata quella di dedicare il primo reading di poesia a due dei nostri poeti che hanno fatto la storia della poesia a Pazzano. Giuseppe Coniglio, il poeta dialettale, e ad Asafo Sapere, la nostra poetessa in lingua. È stata una bella, diciamo, una bella serata, molto riuscita, molto partecipata e, che dire, siamo stati tutti felici. Abbiamo vissuto delle ore piacevoli in compagnia di tanti poeti che hanno accolto il nostro invito, soprattutto per via telematica. Abbiamo postato su internet, su Facebook, la notizia e molti hanno aderito a questa nostra iniziativa. Diciamo, c'è stato un pubblico molto attento, molto devoto, educato al silenzio e all'ascolto. Ci sarà un altro l'anno prossimo? Diciamo che l'idea è quella di continuare, vista la partecipazione di quest'anno. E chissà, forse è probabile pure che faremo un vero e proprio concorso di poesia, con tanto di giuria e con tanti pure premi e quindi una bella graduatoria. Sì, ci sarà. Io sono positiva, ci tengo. Soprattutto vedo che tutti noi che abbiamo organizzato qualcosa siamo positivi a far sì che Pazzano continua durante il periodo estivo ad offrire a chi viene, ai nostri paesani che ritornano e anche per noi che ci viviamo tutto l'anno di vivere insieme un'estate sia all'insegna della cultura che del divertimento. Ben 15 poeti in lingua e dialettale si sono radunati a Pazzano presso il Museo Minerario in una serata bella e indimenticabile il 3 di agosto di questo anno 2019. Che dire, c'è stata una gara di sentimenti, di immagini, di belle figure che hanno intrattenuto piacevolmente un pubblico interessato, attento, silenzioso e che alla fine della manifestazione ha manifestato con scroscianti applausi il proprio consenso all'iniziativa. L'iniziativa, partita sull'iniziativa della poetessa Cosetta Taverniti di Pazzano è stata patrocinata dal Comune e sostenuta da tutte le associazioni del nostro Paese Comincio da me, la Proloco, la parrocchia e quant'altro. Che dire, è stata una serata piacevole che ha avuto anche delle punte di eccellenza quando ad esempio hanno recitato in modo particolare i poeti dialettali di Africa, i due favasuli in modo particolare Giovanni ha pure allietato la serata cantando un paio di canzoni del suo repertorio tradizionale. Ecco, un'iniziativa che si è fatta per la prima volta speriamo che venga ripetuta anche il prossimo anno e noi come amministrazione abbiamo tutte le intenzioni di perseguire questa strada. Una serata all'insegna della poesia un evento riuscitissimo con la partecipazione di tanti illustri poeti del comprensorio. Sì, è stato un evento molto bello abbiamo avuto la fortuna di avere dei poeti di notevole spessore riconosciuti a livello regionale e non solo soprattutto un pubblico molto attento e composto. È stato ricordato il poeta Giuseppe Coniglio e la poetessa Ada Saffo Sapere? Per me è stato un onore perché soprattutto a distanza di 13 anni dalla sua scomparsa la sua figura è ancora molto sentita e allo stesso tempo è stato emozionante sentire la sua voce soprattutto tra la sua gente. Di Ada Saffo Sapere noi pazzanesi conosciamo ben poco e sarebbe necessario secondo me educare proprio la gente alla figura di questa poetessa riconosciuta anche nei paesi esteri. Il mio augurio è che questo non sia un evento occasionale ma sarebbe bello che si istituisse proprio un concorso di poesia perché il 10 agosto del 2010 l'amministrazione comunale l'ha organizzato ma poi col tempo insomma non c'è stata una continuità. Durante questa serata mi ricordo che lo scrittore e giornalista Claudio Stillitano riportò una conversazione tra lui e il nonno il quale diceva che ogni qualvolta muore un poeta nasce una stella e che sarebbe stato necessario secondo lui istituire proprio la giornata di San Lorenzo come la giornata dei poeti. Grazie.